La consulenza gratuita presso il Centro di Psicologia Canina riveste un ruolo importantissimo. Nella prima parte ci dedicheremo alla descrizione del soggetto. Successivamente passeremo all'osservazione. Abbiamo a disposizione uno spazio che consente al cane di esprimersi in ambiente naturale. Avremo così la possibilità di osservare il cane, di capirne la struttura motivazionale, la personalità e di conseguenza applicheremo un lavoro mirato per quel soggetto. Buona visione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.